Scopriamo insieme gli innumerevoli benefici di un'antichissima pianta medicinale. Oggi parliamo del tè verde. Ciao a tutti, sono Carlotta Agnavi, farmacista specializzata in naturopatia e coach del benessere e oggi sono qui per parlarvi delle straordinarie proprietà del tè verde. Ne ho selezionate per voi undici, sono certa che arrivati all'undicesima vorrete soltanto correre in cucina a prepararvi una bella tazza di tè verde ed è per questo che mi raccomando di rimanere fino alla fine del video perché alla fine del video vi darò alcuni suggerimenti su come preparare correttamente il vostro tè verde perché se si fanno alcuni errori potremmo perdere buona parte delle sue proprietà. Ma prima di entrare nel tema se non sei ancora iscritto al canale ti invito a farlo clicca qui sotto su iscriviti e attiva le notifiche con la campanellina che trovi di fianco così ogni settimana all'uscita del nuovo video riceverai la notifica e non rischierai di perderne nemmeno uno. Inoltre se desideri rimanere maggiormente in contatto con me ti invito a seguirmi sugli altri social ma soprattutto iscriverti alla mia newsletter in quanto alcune comunicazioni le passo direttamente quindi se vuoi ti lascio qui il link. La pianta del tè verde la Camellia sinensis è la leggenda vuole che il tè sia stato scoperto più di 5.000 anni fa probabilmente proprio in Cina. Il tè verde è molto comune in Oriente, in Occidente viene utilizzato maggiormente il tè nero, la differenza è la fermentazione. Il tè verde non è fermentato mentre il tè nero lo è. Il processo di fermentazione modifica alcune caratteristiche del tè e fa sì che il tè verde sia più ricco di antiossidanti rispetto al tè nero. Ed è proprio questa sua capacità antiossidante la prima proprietà del tè verde su cui voglio soffermarmi. Essere un antiossidante significa avere la capacità di bloccare i radicali liberi che generano stress ossidativo. Ne abbiamo parlato in numerosi video, lo stress ossidativo è alla base di numerose malattie croniche soprattutto. Noi purtroppo spesso siamo sottoposti a un grave stress ossidativo a causa degli inquinanti ambientali, del fumo di sigaretta, di una scarsa assunzione di vitamine antiossidanti come vitamina C, vitamina E. Sappiate che il tè verde è un antiossidante ancora più potente della vitamina E o della vitamina C. Inoltre il tè verde ha la capacità di chelare metalli pesanti che a loro volta generano danno ossidativo. Quindi è veramente un antiossidante in grado di proteggere le nostre cellule dall'invecchiamento generato dallo stress ossidativo. La seconda straordinaria proprietà del tè verde è quella di migliorare il funzionamento del nostro cervello. Prima di tutto perché? Perché nel tè verde noi troviamo una certa quantità di caffeina che noi troviamo ovviamente anche nel caffè e noi in un precedente video ve ne avevo già parlato sappiamo che la caffeina è in grado di contrastare l'effetto della denosina che invece tende ad addormentare un po' il nostro cervello quando è un pochettino più stanco. Quindi ecco il motivo per cui il caffè ci risveglia a livello cerebrale e questo lo fa anche il tè verde. Ma c'è una differenza. A differenza del caffè il tè verde non ci innervosisce. Perché? Perché oltre alla caffeina nel tè verde noi troviamo l'L-teanina. L-teanina è un importantissimo aminoacido non essenziale in grado di da un lato aumentare la funzionalità del GABA quindi quel neurotrasmettitore che ci dà una tranquillità, una serenità, un rilassamento. Incrementa le onde alfa che sono le onde cerebrali specifiche dello stato di rilassamento ma anche di concentrazione. Quindi ci permette di avere un maggior focus senza però l'effetto sedativo di piante come ad esempio la varieriana, la passiflora di piante che si vengono utilizzate per il rilassamento ma che ci danno poi anche sonnolenza. Quindi l'L-teanina ci permette di essere concentrati, di memorizzare, di avere un buon focus senza però uno stato ansioso o nervoso. La caffeina e l'L-teanina lavorano in modo sinergico quindi una potenzia l'effetto dell'altra. Ecco perché il tè verde bevuto soprattutto nella prima parte della giornata ci permette di essere particolarmente efficienti e concentrati ma numerosi studi hanno anche dimostrato quanto il tè verde possa essere molto interessante nella prevenzione di malattie come demenza, deterioramento cognitivo sia di grado lieve che moderato e malattia di alzheimer. Quali sono i meccanismi grazie ai quali il tè verde diventa interessante come prevenzione della neurodegenerazione? Allora prima di tutto per il potere antiossidante. Noi sappiamo che le malattie neurodegenerative e malattie come l'alzheimer o il declino cognitivo sono strettamente connessi a un eccessivo stress ossidativo. Quindi essendo un importante antiossidante già va a contrastare una delle cause che possono ovviamente essere implicate nell'insorgenza di queste patologie. Ma il tè verde è anche preventivo per la sua caratteristica azione antinfiammatoria. Noi sappiamo che ci sono numerosi markers infiammatori associati a un maggior rischio di malattie neurodegenerative. Terzo meccanismo grazie al quale il tè verde è un ottimo preventivo delle malattie neurodegenerative e la sua capacità di bloccare la produzione di proteina beta miloide. Questa proteina neurotossica di cui noi abbiamo già parlato in altri video è una proteina in grado di creare delle vere e proprie placche in grado di portare alla morte i nostri neuroni. Bene sappiate che l'epigallo catechina gallato è in grado di inibire la produzione di proteina beta miloide e la sua aggregazione. Quarto meccanismo con cui agisce è la sua azione protettiva nei confronti dei nostri vasi sanguigni cerebrali. Quindi proteggere i vasi sanguigni del nostro cervello ci permette di avere un effetto antiaterosclerotico, antitrombotico, quindi prevenire l'ictus e noi sappiamo che l'ictus è la causa più importante di demenza vascolare. Quindi proteggere i nostri vasi automaticamente protegge il nostro cervello. Terza importante proprietà del tè verde è quella di proteggere il nostro cuore. Sì perché il tè verde ha dimostrato di avere una capacità antipertensiva quindi in grado di abbassare la pressione arteriosa. Noi sappiamo che l'ipertensione viene spesso definito il killer silenzioso perché l'ipertensione spesso non si avverte ma nel tempo può portare veramente alla morte. Quindi bisogna stare molto attenti se si soffre di ipertensione però sappiate che il tè verde ha una modesta attività antipertensiva. Ma la sua capacità di proteggere il nostro cuore non è limitata a questo ma soprattutto perché è un potente antinfiammatorio dei nostri vasi. Preserva la funzione endoteliale dei nostri vasi e noi sappiamo che questo è un importante fattore preventivo nei confronti delle placche ateromasiche. Quindi noi sappiamo che i problemi cardiovascolari sono una delle principali cause di morte e allora ecco che possiamo dire che il tè verde può veramente allungare la nostra vita. E questa è la quarta proprietà del tè verde. Sì perché c'è un importantissimo studio in cui sono state analizzate più di 40.000 persone per più di 11 anni. Questo studio ha dimostrato che chi normalmente assume tè verde, parliamo di un quantitativo da questo studio, superiore alle 3 tazze al giorno, intorno alle 3-5 tazze al giorno, aveva un ridotto rischio di morte. Uno per tutte le cause, circa un 20% in meno di rischio di morte per qualsiasi causa, circa il 30% di rischio in meno di morte per eventi cardiovascolari, per patologie legate alla salute del nostro cuore, ecco perché mi ricollego al punto numero 3, e addirittura tra un 35 e un 42% di rischio di morte in meno per ictus. Tenevo molto a presentarvi questo importante studio, però attenzione questo è uno studio osservazionale, quindi cosa significa? Che c'è una correlazione ma non è detto che ci sia una causalità, quindi non è detto che effettivamente sia soltanto il tè verde ad aver abbassato il rischio di morte in queste persone, perché potrebbero esserci più fattori negli stessi soggetti, ok? Quinta importantissima proprietà del tè verde è la sua capacità antitumorale. Ci sono oggi numerosissimi studi che stanno confermando questa sua capacità, ovvero di prevenire e bloccare anche la crescita di numerosi tumori. Dagli studi è emerso che il tè verde è in grado di agire su più stadi della crescita tumorale, quindi dalla differenziazione alla proliferazione, è in grado di bloccare il ciclo cellulare, è in grado di bloccare la telomerasi, è in grado di inibire l'angiogenesi, quindi la formazione di vasi sanguigni intorno al tumore che il tumore ovviamente si organizza per poter crescere. Quindi ovviamente i meccanismi molecolari non sto qui a spiegarli perché sono molto tecnici e difficili, però sappiate che dagli studi è emerso questo. Pare che ci sia una netta correlazione tra utilizzo di tè verde e riduzione del rischio di numerosi tumori, in modo particolare del tumore della mammella, tumore della prostata e tumore del colon retto, tra l'altro tra i tumori più comuni purtroppo. Quindi questa correlazione c'è, sappiate che oltretutto è stato visto che il tè verde può amplificare l'attività di alcuni chemioterapici, così come invece può anche antagonizzare alcuni farmaci utilizzati in oncologia, come il bortezomib. Ecco perché mi raccomando, non solo in caso oncologico, ma se utilizziamo farmaci, prima di assumere tè verde dobbiamo parlarne col nostro medico, perché il tè verde può andare a modificare il metabolismo di alcuni farmaci e lo rivedremo dopo. Quindi sappiate che questa sua attività antioncogena in numerosi studi è stata osservata, un aspetto molto interessante. Sesta proprietà del tè verde è quella antinfiammatoria, abbiamo già visto in precedenza quanto sia in grado di disinfiammare i nostri vasi, quando abbiamo parlato del benessere del nostro cervello e del nostro cuore, ma sappiate che il tè verde è in grado di inibire la produzione di proteine pro-infiammatorie come NFKB, AP1, COX2, tutte proteine che scatenano l'infiammazione. Quindi il tè verde risulta particolarmente interessante in caso di infiammazione cronica, in caso di artriti, di coliti, di infiammazioni di alcuni organi o tessuti del nostro corpo, ma anche nei confronti di quell'infiammazione silente che noi non ci accorgiamo di avere, ma che nel tempo può portare alla formazione di malattie degenerative, dal diabete ai tumori. Ma il tè verde è anche molto interessante per la salute della nostra bocca. È stato visto infatti che il tè verde è in grado di inibire la crescita di determinati batteri che causano alitosi e carie. Ottava proprietà del tè verde è quella della riduzione della massa grassa. In questo caso gli studi danno risultati contrastanti, però sappiamo che effettivamente il tè verde è in grado di aumentare il metabolismo, quindi il consumo di energia del nostro corpo. Dall'altro aumenta la lipolisi, quindi la scissione, la riduzione della massa grassa, soprattutto nei confronti del grasso viscerale. Ne abbiamo già parlato in passato, il grasso viscerale è differente dal grasso sottocutaneo, è quel grasso che si sviluppa intorno ai visceri ed è un grasso particolarmente pericoloso, perché non solo produce ormoni, ma è in grado di aumentare l'infiammazione del nostro corpo. Quindi il tè verde agisce soprattutto a contrastare questo tipo di grasso, particolarmente ostico tra l'altro da eliminare. Ma oltre a questo noi sappiamo che il tè verde aumenta, migliora la sensibilità all'insulina, quindi previene il diabete di tipo 2 e oltre a questo riduce la produzione di grelina. La grelina è un ormone che fa sentire la fame, quindi se noi da un lato aumentiamo il metabolismo, dall'altro riduciamo la massa grassa che abbiamo, miglioriamo la sensibilità all'insulina, riduciamo un pochettino la glicemia perché il tè verde ha dimostrato di fare anche questo e riduciamo la produzione di grelina, ci rendiamo conto quanto il tè verde possa essere un valido aiuto all'interno di ovviamente un regime controllato di un'alimentazione sana. Nona proprietà del tè verde è aumentare il benessere delle nostre ossa. Sì, infatti pare proprio che le proprietà antiossidanti del tè verde riescano a inibire o a rallentare il peggioramento dell'osteoporosi. Noi sappiamo che l'osteoporosi è una malattia fisiologica che quindi interviene nel corso della vita perché ad un certo punto, soprattutto in conseguenza variazioni ormonali, l'attività degli osteoclasti, che sono le celluline che distruggono, riassorbono l'osso, aumenta rispetto a quella degli osteoblasti, ovvero le celluline che costruiscono osso. Più c'è stress ossidativo più gli osteoclasti lavorano e gli osteoblasti no, vengono degradati. Quindi sappiamo che con l'assunzione di tè verde noi possiamo incrementare la formazione di osteoblasti partendo dalle cellule staminali, quindi possiamo rallentare il peggioramento dell'osteoporosi. E più siamo sottoposti a stress ossidativo, penso ad esempio ai fumatori, più dovremmo inserire il tè verde o altri antiossidanti nella nostra vita, proprio per contrastare questo importante danno dei radicali liberi nei confronti delle nostre ossa. Decima virtù del tè verde è quella di migliorare la bellezza e il benessere della nostra pelle. Sì, il tè verde agisce su più aspetti, prima di tutto disinfiamma la nostra pelle, quindi se soffriamo di dermatiti, di arrossamenti, il tè verde può essere molto interessante. Se abbiamo problema di acne, anche in questo caso, perché il tè verde è in grado di contrastare alcuni batteri che possono causare l'acne, ma allo stesso tempo il tè verde, essendo un potente antiossidante, è in grado di contrastare l'invecchiamento della nostra pelle. Da un lato contrasta i radicali liberi che causano la formazione di macchie, di rughe, quindi contrasta il danno da fotoinvecchiamento e da cronoinvecchiamento, quindi ci protegge anche dai danni UV. Dall'altro aumenta la capacità della nostra pelle di trattenere acqua, quindi grazie all'utilizzo del tè verde la nostra pelle diventa più luminosa, più idratata, più compatta e preveniamo l'invecchiamento. E infine il tè verde è un grande amico anche dei nostri capelli. Sì, perché oltre a regolarizzare la secrezione sebacea, è stato visto che il tè verde è in grado di inibire la 5-alfa-reduttasi. Probabilmente ne ricorderete, ne abbiamo già parlato in altri video, è un enzima che trasforma il testosterone in diidrotestosterone. Agendo su questo enzima noi possiamo contrastare gli effetti ovviamente della caduta ormonale, quindi della lopecia androgenetica. Quindi da un lato siamo in grado di contrastare la miniaturizzazione del capello, ovvero il capello quando diventa sempre più sottile. Dall'altro riduciamo la caduta e aumentiamo la ricrescita. A questo punto mi preme sottolineare un aspetto. Tutti i benefici di cui vi ho parlato, ovviamente dimostrati attraverso studi scientifici, derivano sempre dall'assunzione di tè verde sotto forma di infuso e non di integratore. Ve lo dico perché potreste anche pensare di utilizzare un integratore di sola epigallocatechina gallato, che è il polifenolo più importante del tè verde. Bene, sappiate che mentre l'infuso di tè verde non presenta quasi controindicazioni, dico quasi perché se abbiamo delle patologie, se siamo in gravidanza, in allattamento, se assumiamo farmaci, non è detto che possiamo utilizzare il tè verde, quindi dobbiamo parlarne con il nostro medico. Ma l'integratore in alcuni paesi ha portato dei casi di epatotossicità, quindi attenzione, l'integratore potrebbe addirittura essere pericoloso, cosa che è difficile che sia invece l'infuso. Ovviamente il quantitativo di infuso che possiamo bere durante la giornata non deve superare le 3, 4, 5 tazze al giorno al massimo. Noi sappiamo che la biodisponibilità dei suoi polifenoli purtroppo è bassa, quindi è meglio ripetere l'assunzione durante la giornata e possibilmente a stomaco vuoto, perché se noi beviamo il tè durante un pasto potremmo limitare l'assorbimento del ferro, quindi attenzione se soffriamo di anemia. Allo stesso tempo dobbiamo stare molto attenti anche a come prepariamo il nostro tè verde, perché dobbiamo sapere che per la corretta preparazione non si utilizza acqua bollente. Per il tè verde la temperatura corretta è intorno ai 70-80 gradi, al massimo 85. Cosa significa? Che se noi abbiamo un bollitore in cui possiamo impostare la temperatura, perfetto, altrimenti portiamo a ebollizione l'acqua, poi aspettiamo almeno 5 minuti, dopodiché la versiamo sulle nostre foglie. Il tempo di infusione va dall'1 ai 3 minuti, non consiglio di lasciare in infusione per lungo tempo perché il gusto diventerebbe molto amaro. Se invece fossimo particolarmente sensibili alla caffeina, io vi consiglio di fare così. Versate l'acqua sulle vostre foglie, contate 20-30 secondi, ne versate poca di acqua, poi la buttate via e aggiungete della nuova acqua, fate diciamo una seconda infusione. Perché? Perché il primo attivo che viene liberato durante l'infusione è proprio la caffeina. Quindi se fate questo primo passaggio eliminate un po' di caffeina. Sappiate però che la caffeina, come abbiamo ribadito prima, ha numerosi effetti benefici, quindi l'importante è non bere il tè verde ovviamente alle 9 di sera. Mi raccomando anche a come conserviamo il nostro tè verde. Il tè verde è sensibile alla luce, quindi è meglio conservarlo in un barattolo scuro e possibilmente non vicino al caffè, perché potrebbe assorbirne l'odore. E mi raccomando anche alla qualità del tè verde che scegliete. Chiedete eventualmente a un bravo erborista di aiutarvi nella scelta perché un tè verde economico potrebbe essere contaminato da pesticidi, metalli pesanti o essere poco efficace. Quindi mi raccomando, attenzione alla qualità. E infine mi raccomando, se siete in terapia farmacologica, prima di assumere tè verde chiedete un parere al vostro medico, perché il tè verde agisce sul metabolismo del fegato, quindi può amplificare gli effetti di alcuni farmaci e ridurre gli effetti di altri farmaci. Può amplificare l'effetto di alcuni antitumorali e bloccare l'attività di altri chemioterapici. Quindi mi raccomando non c'è da scherzare, questa è una pianta medicinale, pertanto ha delle proprietà terapeutiche e può dare anche dei problemi in caso di assunzione di determinati farmaci. Quindi se avete patologie o assumete farmaci, vi prego, parlatene col vostro medico. Ma il fai da te. Bene, io spero con questo video di esservi stata utile. Se ritenete valido questo video, condividetelo con le persone a cui volete bene. Lasciatemi per piacere un like di supporto, un commento. Se volete sostenere il mio lavoro, potete anche semplicemente offrirmi un caffè. Se invece volete rimanere in contatto, nell'info box qui sotto c'è il link per iscrivervi alla mia newsletter. Io vi ringrazio per tutto il vostro supporto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!